... Mister Luca Loisi, questa poteva essere forse una partita diciamo a tradimento tra virgolette perché il Roggiano è una squadra che diciamo viene da sei sconfitte consecutive però bisognava prenderla con le giuste pinze. Ma sicuramente tutte le partite in questo campionato sono partite che risultano insidiosi almeno sulla carta, poi è il campo a dire se siamo pronti o meno sicuramente era una squadra che veniva qua a giocarsi la partita qua è bello giocare, il campo te lo consente quindi era una partita spigolosa anche perché noi comunque stiamo affrontando giornata dopo giornata assenze pesanti il reparto offensivo siamo fuori ancora con Barillare e Diaco oggi Le Voci che è l'unica punta di ruolo subito un'infortuna Giuseppe in settimana non è stato bene quindi bisogna inventare ogni volta un qualcosa per riuscire a fare male agli avversari c'è quando si ci riesce c'è quando non si ci riesce la cosa positiva sono i ragazzi perché abbiamo con noi dei ragazzi che riescono a seguirci, riescono a starci dietro, riescono a capire quello che chiediamo e poi alla fine un plauso va fatto anche a chi gioca molte volte lo sacrifica fuori ruolo vedi oggi è benante, ha giocato in diversi ruoli per tutto il campionato, oggi si è messo lì da colante tra centrocampio è attacco ed è andato al gol, quindi un plauso va fatto dai più piccoli ai più grandi da Coppola che ancora una volta si è riconformato per un 2001 da Savoia per come è entrato che è un 2003 Luzzi e così via tutti quanti gli altri che stanno dando una grossa mano alla nostra causa Allora mister Triolo era una partita difficile, si sapeva per una squadra come il Roggiano che è in fase di allestimento se così possiamo dire però ci avete messo tanto agonismo, almeno questo Sì, sapevamo, siamo venuti qua privi di cinque giocatori importanti non lo dico perché avremmo contrastato un po' di più anche se poi non lo so, alla fine avremmo potuto perdere e diciamo che questi ragazzi stanno dando anche delle soddisfazioni perché tra mille difficoltà, come hai detto tu, è una squadra in fase di allestimento però noi adesso piano piano stiamo prendendo dei giocatori l'ultimo oggi è visto che ha giocato pure Citrigno all'esterno a sinistra che abbiamo preso Tra i miliardi E' lungo un altro del Rende, il ragazzino, quello piccolino, la del Rende Poi una volta che mi rientrano Carbone, Parise, mi rientra Pedace, Danilo Cascaro, Ex Paolano Poi dopo posso combattere per l'obiettivo che dobbiamo raggiungere noi perché sappiamo che qua a Rossano sarebbe stato difficile perché vanno da una sconvitta e anche loro oppure devono mettersi in una situazione tranquilla e quindi non era facile Domenica abbiamo l'altra partita importante in casa con la Vigor Lamezia dove ce la giocheremo sicuramente dove mi rientrano diversi giocatori quindi anche se i nostri obiettivi poi sono per le partite susseguirsi che devengono dopo perché abbiamo tolto un ciclo terribile di partite se si considera qua che noi abbiamo iniziato gli allenamenti il 4-5 gennaio quindi non abbiamo fatto nessuna preparazione non c'erano altri giocatori purtroppo sappiamo tutto cosa è successo a Rossano ma niente, si stanno rimboccando le maniche alcuni soci che sono rimasti per cercare di salvare il salvabile e per mettermi a disposizione almeno una squadra con un po' di più senza nulla togliere questi ragazzini però tu pensai in questi campionati c'è bisogno di gente che sa giocare a pallone, gente esperta e quindi niente, sono ben fiducioso per il proseguo del campionato Grazie a tutti